Buongiorno, buongiorno a tutti, anche il nome della ACT, vorrei ringraziarvi per essere qui a questo webinar e vi voglio parlare della situazione portoghese per quello riguarda gli accordi di collaborazione. Vi chiederei appena un attimo di pazienza per poter condividere il mio schermo con voi. Un attimo. Eccoci. Come vi ho detto, oggi vi parlerò brevemente della cooperazione tra il Portogallo e la Francia. Dunque, parlando del contesto del distacco dei lavoratori, era qui che voglio cominciare. Sappiamo che il lavoratore distaccato è quel lavoratore che forniscono e prestano i propri servizi in un territorio di uno Stato membro diverso rispetto a quello di origine. E cosa implica tutto ciò? Questo vuol dire che verranno coinvolti all'interno di un contesto giuridico nazionale e comunitario. Come si può vedere c'è la direttiva sul distacco dei lavoratori e questo comporta appunto una difficoltà nel monitorare la situazione da parte delle autorità di controllo o gli organismi competenti per poter vedere se l'applicazione di questo quadro giuridico avviene o meno. In Portogallo abbiamo riscontrato alcune difficoltà e oggi vi parlerò di queste. Cominciamo quindi dal fatto che ci sono due regole diverse che vengono applicate per questo accordo di lavoro a seconda dei stati membri. Per quello che riguarda l'ACTE, quindi l'Ispettorato Nazionale del Lavoro Portoghese, l'unica cosa che può fare è vedere quello che concerne le regole di retribuzioni portoghese. Quindi per attuare un controllo effettivo abbiamo bisogno di una panoplia di informazioni e queste informazioni devono essere acquisite in modo giusto e in questo caso devono rivolgersi a uno Stato membro diverso da quello del Portogallo. A per scendere dal fatto che vi è un grande numero di meccanismi per lo scambio di informazioni, vi è sempre un certo ritardo tra questo flusso di informazioni tra Stati membri e questo ovviamente impatta anche i risultati e l'efficacia di un ispettorato. Anche se abbiamo questa piattaforma che è stata migliorata lungo il corso degli anni e che anzi devo dire è molto più utilizzabile dagli utilizzatori come l'IMI, ci sono altre remittazioni, ad esempio la barriera linguistica all'interno dei vari paesi. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'informazione non arriverà in modo completo, in modo efficace a chi richiede queste informazioni, ossia agli ispettorati del lavoro. Nel caso portoghese vi posso dire che riscontra delle difficoltà dato che ci sono due autorità, abbiamo la CITE e abbiamo l'ispettorato dei contributi previdenziali che si occupano di questa materia specifica. In altri Stati membri però sappiamo anche che ci sono anche delle autorità competenti, non è concentrata in un'autorità e quindi anche la nostra controparte non è un ispettorato del lavoro ma viene gestito da un'altra autorità per quello che riguarda il distacco dei lavoratori. È per questo che noi richiediamo che ci fosse una colorazione molto più stretta e forte tra gli Stati membri coinvolti ovviamente quando viene eseguito un'ispezione. Cosa abbiamo fatto in Portogallo? Abbiamo identificato quei Stati membri dove abbiamo una gran parte di lavoratori distaccati. Qui abbiamo le richieste ricevute all'interno della CTE utilizzando il sistema IME però possiamo anche utilizzare altre cose come le dichiarazioni del modulo A1 ad esempio o anche le dichiarazioni che vengono sottoposte all'ACTE. Ad esempio quando un datore di lavoro portoghese manda un lavoratore distaccato deve comunicare all'ACTE dov'è che manderà questo lavoratore. Quindi vi è tutto un grande meccanismo di raccolta di informazioni e grazie a questa antologia siamo riusciti a vedere quali sono gli Stati membri più gettonati come ad esempio la Spagna però come potete vedere qui ci sono anche altri paesi e oggi parleremo dell'accordo bilaterale francese. Come mai? Dal nostro punto di vista crediamo che implichi tutti gli elementi necessari che stanno alla base di un ottimo accordo bilaterale per quello che vuole dei lavoratori distaccati. E ciò mi porta al prossimo tema. Com'è che si raggiunge un accordo bilaterale o di accordo per quello riguarda il distacco dei lavoratori? Abbiamo due tipi di accordi, quindi istituzionali e quelli governativi. Cominciamo con i primi quindi. Gli accordi istituzionali sono segrati tra istituzioni omologhe ovviamente quindi gli spetterati del lavoro, quello portoghese in questo caso e quello dell'altro Stato membro. E questo crea appunto una maggiore libertà per quello che riguarda la stesura delle condizioni e anche delle attività che verranno implementate. Inoltre vi è anche una maggiore reattività per quello che riguarda l'acoperazione e anche è molto più informale però questo può anche voler dire che ci sono dei problemi a livello di budget, ci sono pochi fondi e poi ci sono gli altri accordi, quelli governativi. Questi vengono segrati a livello governativi, ossia a livello del ministero preposto a questo tema. Questo vuol dire che vi è una struttura più organica e protocollata. Normalmente vi è la creazione di un comitato direttivo che va a monitorare tutta la situazione. Questo comitato direttivo cos'è che implica? Implica quindi una cooperazione molto più formale, dei follow-up molto più formali e anche dei report per risultati molto più formali. Infatti viene creato un piano di attività tra ambe le parti. Nonostante questo alto livello di burocrazia, questo comporta anche un'efficienza molto maggiore. Ciò che ci permette è l'uso di strumenti che rendono l'ispezione molto più efficace, dato che ricevono molto più apporto finanziario e logistico. L'accordo specifico, quello francese e portoghese, è un accordo ministeriale. Quindi sono stati entrambi i governi, specificamente i due ministeri competenti, hanno seglato questo accordo. Il comitato direttivo ha riunito la ACT portoghese e la CGET francese. Abbiamo anche creato una squadra di cosiddetti agenti di prossimità. Questi agenti di prossimità sono ispettori del lavoro portoghesi e francesi. Essi incontrano per parlare delle situazioni tecniche, per quello che concerne l'ispezione. Inoltre è stato anche creato un piano di attività per poter migliorare la cooperazione. Quali attività sono state definite? Come vedete qui dalla slide, la grande maggioranza di queste attività sono già state attuate e quindi è solo un riassunto di cui vi voglio parlare. Attività necessarie per poter migliorare la cooperazione tra le due parti. Ve ne parlerò brevemente di una o due, dato che abbiamo molto tempo. Abbiamo già avuto una prima riunione del comitato direttivo. Abbiamo anche avuto la prima riunione dei agenti di prossimità. Cos'è che succede durante questa riunione? Gli ispettori francesi e portoghesi si incontrano, vanno a delineare quali sono le problematiche o cos'è che si può migliorare all'interno di un'ispezione sia del lato portoghese sia del lato francese. Inoltre un'altra cosa che viene dibattuta è le regole per il distacco, com'è che fu recepita la direttiva e come è stata poi attuata all'interno del quadro normativo di entrambi i paesi, poiché a volte vi è una discrepanza per quello che riguarda la ricezione, dato che alla fine i paesi possono attuare la direttiva e adattarla al contesto locale e quindi bisogna cercare di capire come funziona il contesto normativo specifico. La riunione ha anche delineato come par fronte anche ai sistemi abusivi all'interno della realtà di distacco e abbiamo anche analizzato l'approccio a come intervenire per l'ispezione dei lavatori distaccati. In questo caso il settore della costruzione, quindi il settore edile, è quello che manda il maggior numero di lavatori distaccati portoghesi in altri paesi, soprattutto nella Francia. Alcune di queste persone erano presenti durante questo seminario. Il seminario è il seminario internazionale di informazione europeo. In questo caso il Portogallo e la Francia hanno parlato del progetto europeo Euro Detachment. Cosa è questo progetto europeo Detachment? Noi abbiamo parlato di questo progetto durante un workshop qui a Lisbona. Vogliamo invitare tutti quanti gli attori che hanno partecipato a entrare in questo progetto e l'abbiamo fatto. Abbiamo invitato le persone che potrebbero avere un'ottica, un punto di vista diverso per quello che riguarda il distacco dei lavoratori, le parti sociali, i professori universitari, ad esempio, i sindacati e anche le assorzioni dei lavoratori di lavoro, gli ispettori, gli ispettorati del lavoro e abbiamo anche avuto ospiti di onore internazionale, professori che si concentrano soprattutto nell'ambito dei lavoratori distaccati. Abbiamo anche invitato l'ispettorato del lavoro belga e dell'Ulsemburgo per poter davvero ampliare un po' i nostri orizzonti e capire come funziona la situazione in questi paesi. Credo che il fattore molto positivo di questa riunione è che abbiamo cercato di solitare tutti quanti gli elementi all'interno dell'equazione del distacco e vi posso dire, voglio essere molto onesta, è davvero stato un successone. La questione fiscale, ad esempio, è una cosa che non viene analizzata molto spesso quando si parla del distacco dei lavoratori, che però ha un impatto ingente sulla vita dei lavoratori, poiché non sanno com'è che vanno a pagare i propri contributi o come possono beneficiare i propri contributi quando tornano nel paese di origine. Abbiamo anche lavorato duramente per quello che riguarda il processo di formazione e quindi abbiamo creato e stirato dei documenti di formazione per i lavoratori e anche per le imprese che sono coinvolte nel processo di distacco. Un documento che è stato completato è tradotto e mandato alle aziende francesi che mandano i propri lavoratori qui in Portogallo e ne abbiamo parlato durante un seminario internazionale che si è tenuto qui a Lisbona e si può trovare anche nella pagina della ACT in versione portoghese e francese. Stiamo adesso cercando di fornire una traduzione anche in inglese. Abbiamo anche fatto un'altra cosa. Abbiamo creato un documento anche per le imprese portoghese. Era un aggiornamento di un documento già esistente, un documento che era già stato redatto. Però abbiamo visto la necessità di aggiornarlo per via di un rimpasto all'interno della ACT e quindi abbiamo anche aggiunto le informazioni più aggiornate. Abbiamo anche pubblicato questa informativa nella pagina della ACT, soprattutto nella parte specifica del distacco dei lavoratori. Passiamo adesso al protocollo di cooperazione. Questo è importantissimo. Come mai? Poiché questo ci porta a creare una metodologia molto più efficace per quella riguarda il distacco dei lavoratori e l'analisi della situazione. Esiste già questo accordo e vogliamo parlare con l'ispettorato europeo del lavoro. Abbiamo già delle riunioni organizzate ma per via del Covid purtroppo abbiamo dovuto porre tutto da parte per adesso. Sempre analizzando l'ottica portoghese-francese. Saranno ispezioni congiunte. Ad esempio se c'è un'impresa portoghese che manda dei lavoratori presso la Francia, l'ispezione verrà attuata in Francia e poi per poter complementare le informazioni avverrà anche il contrario. Un'altra attività che abbiamo sviluppato è la raccolta di informazioni. Intanto crediamo che anche questo elemento è molto importante presso ambo le parti. Soprattutto quando si parla di quelle aziende che hanno bisogno di un'ispezione. E quindi i paesi possono eseguire questa ispezione congiunta presso queste aziende specifiche. Abbiamo anche creato un approccio metodologico per poter creare e analizzare gli infortuni sul lavoro. Quando sapete che vi è un infortunio sul lavoro nell'ambito del distacco e vi è un lavoratore portoghese in Francia e ritorna in Portogallo e l'infortunio viene analizzato in una corte portoghese, quello che succede è che vi è una mancata articolazione tra i vari tribunali, poiché, come sapete, i tribunali non fanno parte del sistema IMI e quindi devono appoggiarsi agli utilizzatori della piattaforma IMI per poter raccogliere tutte le informazioni che sono state raccolte e sviluppate nell'altro paese membro. E quindi tra il Portogallo e la Francia, per quanto riguarda le ispezioni sui infortuni del lavoro, abbiamo creato una metodologia specifica per questa realtà e come possiamo raccogliere queste informazioni. Katia, ancora tre minuti. Ho quasi raggiunto la fine, grazie mille Katarina. Abbiamo già organizzato e si è già tenuta la seconda riunione del comitato direttivo, siamo riusciti a farlo prima della chiusura delle frontiere. Qui abbiamo analizzato un po' la situazione attuale della cooperazione e dove abbiamo stabilito anche i prossimi passimi all'interno di questo ambito cooperativo. È stata una riunione molto fruttuosa e vogliamo continuare a continuare questa cooperazione, dato che i risultati che siamo riusciti a stabilire e a trovare sono stati molto positivi. Abbiamo già stabilito la seconda riunione degli agenti di prossimità, però per via del Covid. Le date già agendate sono state rimandate, se ne die. Grazie mille per l'attenzione.